Musica Mercoledì 27 ottobre, Sant'Evaristo, è il trecentesimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 65 al termine. Il sole solge le 7.43, tramonta le 18.05. La luna solge le 22.41, tramonta le 14.10. Viene richiamato in vigore un decreto dell'aprile 1487, con il quale si vietava la fabbricazione, lo spaccio e l'uso di pietre preziose false. Le previsioni per domani, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature sulle pianura con andamento irregolare di notte e in calo di giorno, sui monti stazionari e nelle valli e in aumento in quota. Musica Cittadella Cittadella, città medievale in provincia di Padova, è l'unica città murata di tutta Europa ad avere un camminamento di ronda, di forma ellittica e completamente percorribile. Le mura sono visitabili, con una passeggiata panoramica a 15 metri d'altezza, un'esperienza unica. Attraverso questo cammino ci si sentirà più vicini alle origini del borgo. Una leggenda le vuole edificate, molto probabilmente su precedenti manufatti. È ipotizzabile su di una motta preromana, per fronteggiare le minacce della vicina Castelfranco Veneto, avamposto trevigiano e anche per arginare le ultime scorribande barbare. A ciò si aggiunge la magia del panorama. Di grande interesse poi è la chiesa di Santa Maria del Torresino, posta di fianco alla cinta muraria, che prende il nome proprio dal Torresino lì accanto. Musica